Questo è il vero Kurt Seyit Eminoff e questa è la vera Shura. La ragazza e l'ufficiale è una serie tratta da un libro che a sua volta è tratto da una storia vera. Andiamo a vedere insieme quali sono le differenze tra i fatti reali e la serie tv e come sono andate le cose per i veri Seyit e Shura. Come vi dicevo, La ragazza e l'ufficiale è tratto da un libro di Nermin Besman, scrittrice nonché nipote del vero Seyit Eminoff. Il titolo originale del libro scritto dalla nipote di Seyit è Kurt Seyit ve Shura che significa Seyit il lupo e Shura ma quello che non sapete e che vi lascerà a bocca aperta è che esiste un secondo libro seguito del primo dal titolo Kurt Seyit ve Murka ovvero Seyit il lupo e Murka. Ma chi è Murka? Murka è la nonna della scrittrice, la donna che Seyit ha poi sposato con lei che ha preso il posto di Shura. Andiamo per ordine, vediamo prima le differenze tra il libro e la serie tv poi parliamo di come sono andate le cose quando il primo libro si è concluso e di come Shura e Seyit si sono lasciati e che fine hanno fatto poi i nostri protagonisti. Nel libro quando Seyit conosce Shura ha 24 anni, una carriera militare iniziata da piccolo e un interesse per le lingue straniere, la filosofia, la poesia e l'estetica. Shura ha 15 anni e ha degli enormi occhi azzurri e capelli biondi, un'estetica tipica della Russia. Sin dal loro primo incontro, narrato nel libro, si parla di un'attrazione fisica e una chimica senza pari che li porta spesso a nutrirsi l'uno dell'amore dell'altra. Cosa che nella serie tv invece è passata in secondo piano, i momenti passionali tra i due si contano infatti sulla punta delle dita. Inoltre, la vicenda tormentata non ha in Petro il suo naturale antagonista. Questa è una delle grandi differenze tra il libro e la serie. Petro non è l'antagonista di Seyit per tutta la storia, non è innamorato di Shura, bensì è innamorato di Tatiana, la prima ballerina del Bolshoi che nella serie è fidanzata con Selil. Petro, inoltre, non viene cacciato dall'esercito da Seyit, ma si dimette volontariamente perché non aveva mai amato la vita militare. È vero invece che si unisce poi alla rivolta bolshevica e che, anni dopo, verrà ucciso da Seyit perché Petro era incaricato di ucciderlo. Sempre nella storia reale, Selil è fidanzato con Tatiana, ma lei non è morta e non ha mai perso un bambino. Inoltre, Selil e Tatiana non sono mai andati ad Istanbul, sono rimasti ad Alusta e la scrittrice ha dichiarato che li sta ancora cercando. Guside, quindi, non è un personaggio che è esistito veramente, ma un personaggio inventato per la serie TV e per movimentare la storia di Selil. Molto interessante, invece, la vera figura di Yahya. Yahya era sposato con una donna tedesca e ha avuto una vita lunga e felice. È sempre stato vicino a Seyit, anche durante la malattia. Un altro personaggio completamente cambiato rispetto al libro è Aisha. Non c'è nessuna Aisha nel libro, nessuna donna che cerca di sedurre Seyit e si fa poi trovare nel suo letto a sua insaputa. Inoltre, il famoso tradimento di Seyit nel libro è stato sì avvenuto, ma con una ragazza della lavanderia dopo che aveva visto Shura in compagnia del cugino uscire dalla farmacia e non con una donna conosciuta in un locale. Il rapporto tra Seyit e Shura si è rotto partendo da questo evento e quando Seyit conosce Murka decide di sposarla perché si rende conto che il rapporto con Shura fa del male sia a lui che a lei. Murka nella serie tv non è nominata, ma c'è un'altra donna al suo posto di nome Murveth. Quello con Murveth sarà un amore diverso da quello che aveva avuto con Shura e che viene raccontato nel secondo libro dalla scrittrice, appunto il libro Kurt Seyit ve Murka. La coppia ha anche avuto due figlie femmine, come possiamo vedere da questo ritratto di famiglia. Una notizia molto interessante che scopriamo leggendo questo libro è che Shura e Seyit hanno continuato per alcuni anni a scriversi lettere, nonostante lui fosse sposato e avesse dei figli. Murka lo sapeva e la scrittrice racconta di come sua nonna le avesse raccontato che per i primi anni di matrimonio Seyit rimpiangeva l'amore con Shura. Questo, tuttavia, non gli ha impedito di amare anche Murka, che si è sempre sentita viziata e trattata molto bene da Kurt Seyit. Seyit, lavorativamente, ha davvero rilevato la lavanderia per lavorarci con Shura e, in quell'occasione, essendo stati i rubli svalutati, ha dovuto davvero impegnare tutte le sue medaglie datogli dallo zar russo. Negli anni successivi, lavorativamente, ha avuto molti alti e bassi, un periodo molto florido e ricco, in cui gestiva addirittura un ristorante a pera, fino ad un momento dove i soldi scarseggiavano e lavorava in una fabbrica di fiammiferi. Sempre irrequieto di fondo e dal carattere opposto a quello di Murka, che invece era una persona tranquilla e stabile, Seyit a volte ha abbandonato il tetto nuziale anche per mesi. Inoltre, e questa notizia vi lascerà a bocca aperta, Seyit a un certo punto decide di togliersi la vita. Le cose non sono andate come sembra. Infatti, Seyit, durante uno dei suoi viaggi di lavoro in Anatolia, rimase bloccato sul treno in una tempesta di neve. Decise di donare il suo cappotto e la sua sciarpa a una madre e a un bambino, ma questo freddo lo fece ammalare. Trascurando la malattia, contrasse anche la tubercolosi e ben presto non fu più in grado di lavorare perché respirava fatica e aveva dolori lancinanti, come racconta la scrittrice del libro. Seyit, in queste condizioni e con sua moglie Murka costretta a mettersi a lavorare in un calzificio per mantenere le sue cure, decide di togliersi volontariamente la vita, liberando la moglie dal peso dell'agonia che la malattia avrebbe comportato. Nonostante molti credano che il gesto di Seyit fosse dettato dall'amore irrisolto con Shura, erano ormai passati 22 anni di amore con Murka quando Seyit ha preso questa decisione, dettata dallo stato di salute irreversibile. Ma che fine ha fatto Shura dopo l'amore con Seyit che è giunto al termine? Dopo un periodo di difficoltà e parecchie delusioni trovò anche lei l'amore. Si sposò con un gentiluomo molto a modo, ebbero una figlia e si trasferirono in America e Tina ha raccontato alla scrittrice che si sentì da lui molto amata e venerata. Ovviamente come tutte le coppie ebbero i loro alti e bassi ma rimasero insieme. Un'ultima curiosità riguarda Osman, il fratello di Seyit. Seyit, il vero Seyit, ha sempre pensato che suo fratello fosse stato fucilato dai bolscevichi e morto quindi quando era ancora giovane. In realtà la scrittrice del libro è venuta a sapere molti anni dopo la morte di suo nonno Seyit Eminov che Osman, il giorno della fucilazione, è stato salvato da un pescatore ed è rimasto nascosto per mesi nella sua capanna. Si era poi rifatto una vita e suo figlio poco prima di morire aveva contattato la scrittrice venendo a sapere di lei e della storia proprio dai suoi libri. Ecco la storia dietro la serie tv. I due libri di cui abbiamo parlato, Kurt Seyit Vesciura e Kurt Seyit Vemurka, non esistono purtroppo in italiano ma sono disponibili per chi lo desiderasse e potesse in lingua inglese. Io sono Stefania, spero che questo lungo approfondimento che ho realizzato direttamente io stessa facendo delle ricerche vi sia piaciuto. Vi aspetto nei commenti per parlare di tutto quello che vi ho raccontato e intanto vi mando un abbraccio.